Si è spento nella serata di mercoledì il senatore Luigi Panigazzi. La notizia della scomparsa dello storico politico oltrepadano ha suscitato grande commozione nella sua Valdiniza, dove nacque nel 1925 in tutto il territorio provinciale. Medico di famiglia, partigiano delle Brigate Garibaldine, presidente della provincia di Pavia dal 1972 al 1978, sindaco di Valdiniza dal 62 al 72 e senatore della Repubblica negli anni 80. Nel 1975 Panigazzi divenne segretario della federazione provinciale del Partito Socialista Italiano, a cui si era iscritto subito dopo la guerra. Suo il castello di Oramala, che svetta tra i boschi secolari di castagne e querce della Valle Staffora, un luogo dell'anima che aveva restaurato con cura nel corso di alcuni decenni e dove si era stabilito la nipote Simona Panigazzi, ex assessore in comune a Voghera, ha raccontato che l'ultimo suo desiderio era quello di essere tumulato con un garofano rosso fra le mani, mentre secondo il sindaco di Valdiniza, Franco Campetti, con Panigazzi se ne è andato un pezzo di storia della comunità locale. Ha rappresentato una parte del potere politico in passato, ma è stato soprattutto ben voluto da tutti perché lui è sempre stato disponibile con tutti, in particolar modo con le persone bisognose, con le persone che hanno bisogno di una parola di conforto, come medico è sempre stato disponibile. E come politico penso che abbia fatto solo ed esclusivamente del bene e infatti tutti lo ricordano veramente con piacere e con affetto. Quando è andato in pensione da politico si è dedicato al castello di Oramala dove per decenni ha vissuto ed è vissuto il castello con le iniziative, sempre lui presente, sempre lui trainante, sempre ospitale con tutti, chiunque lo volesse visitare il castello l'ha messo a disposizione della comunità e di chiunque per proprio questo spirito suo di altruismo.